Musica Yo bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Io sono Ozzy e come Ozzy c'è VALEEX Dopo tanto tempo ho deciso di ritornare a customizzare sneakers Proveremo a farlo con una nuova tecnica La prima fase consiste nello scocciare la zona che non vogliamo verniciare E in questo caso mi manca ancora questo pezzo che ve lo risparmio perché richiede un sacco di tempo Musica Questa è già pronta per essere immersa Adesso passiamo a scocciare l'altra scarpa che indovinate un po' la farà Valeriano La prima cosa che ci serve sono i guanti Perfetto, una volta indossati i guanti dobbiamo riempire la vaschetta d'acqua Musica Perfetto, una volta indossati i guanti dobbiamo riempire la vaschetta d'acqua Perfetto, una volta indossati i guanti dobbiamo riempire la vaschetta d'acqua Perfetto, una volta indossati i guanti dobbiamo riempire la vaschetta d'acqua Perfetto, una volta indossati i guanti dobbiamo riempire la vaschetta d'acqua Ok ragazzi e questo video termina qui Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un like e commentate qui sotto Così se volete altri video mentre customizzo sneakers E mi raccomando ragazzi non dimenticatevi che per me è importantissimo Iscrivetevi al canale se stai vedendo il video Qui sotto c'è scritto iscritti Clicca, condividi Baci a tutti raga Bella Odis